Che da Paudio potrei prendere? Allora quanti soldi hai? Prima domanda Eh soldi sono ricchissimo Sei ricchissimo? Allora antelop audio Quanto costi? 5 mila? Eh allora, sono mica un barbone No, mica sei un barbone Dato che vado di un mese potrei prestarti eventualmente L'RM Piuttosto che lasciare alla spenta Dai, dagli sta scheda